Roberto Ferreira, capogruppo di 5 Stelle in Consiglio Comunale, oggi è saltato il Consiglio Comunale, un suo commento a questa notizia? La notizia è sempre la solita, abbiamo una maggioranza cittadina che di fatto non è maggioranza, tanto è che per l'ennesima volta non si tiene un Consiglio Comunale perché la maggioranza non ha i numeri per poter portare avanti i lavori, non è una novità. Come giudica questa situazione? La situazione è di stallo, abbiamo un Consiglio Comunale che non viene convocato praticamente mai, abbiamo circa una convecazione al mese che in confronto a tutti i comuni italiani è una cifra ridicola, non si discutono i problemi della città e l'attività viene svolta esclusivamente dalla Giunta Comunale facendo degli atti che ho segnalato non essere forse di competenza della Giunta ma del Consiglio, ma visto che il Consiglio non viene convocato, non lavora, non riesce a lavorare, di fatto abbiamo un Consiglio Comunale che è congelato e che non sta lavorando di fatto.